Ciao a tutti, amici di Vanilla. Partiamo da una considerazione. Oggi nessuno all'infuori degli inglesi si ricorderebbe di George Billers, primo duca di Buckingham, se non lo avese reso famoso lo scrittore francese Alexandre Dumas nel suo conosciutissimo romanzo I tre moschettieri. La trama prende spunto da personaggi storici ed eventi realmente accaduti, rielaborati però dalla fervida fantasia di Dumas, che condisce il tutto con amori, intrighi e avventure rocambolesche, come d'obbligo per un romanzo d'appendice. D'altronde i personaggi storici presenti nel racconto ben si prestavano a tutte le sfumature del genere, a partire dai due sovrani di Francia, Luigi XIII e Anna d'Austria, con la loro unione molto mal assortita e un erede arrivato dopo ben ventitré anni di matrimonio. C'è poi l'incomprante presenza del potente cardinale Richelieu, primo ministro francese che, di fatto, concentra il potere nelle sue mani e non dissimula affatto l'ostilità che prova nei confronti della regina consorte spagnola e per questo nemica anche agli occhi di Luigi, che mal digerisce quelle nozze volute da sua madre, Maria de' Medici, all'epoca reggente in nome del figlio, proprio per consolidare i rapporti fra Francia e Spagna. I matrimoni combinati a quello scopo sono addirittura due, celebrati per procura nello stesso giorno, il 18 ottobre del 1615. Anna d'Austria va in sposa a Luigi XIII, mentre suo fratello, l'infante Filippo, sposa Elisabetta di Borbone, sorella di Luigi. Lo scambio delle fanciulle, come fossero merce e di fatto lo erano, avviene sull'isola dei Fagiani, all'epoca una sorta di zona franca dove venivano scambiati i prigionieri. Il matrimonio tra Luigi e Anna parte sotto i peggiori auspici. I due sposini hanno entrambi solo 14 anni, ma la regina madre vuole che il matrimonio sia consumato la sera stessa delle fastose nozze in presenza, celebrate a novembre. Già coricarsi nello stesso letto davanti a tutta la corte non deve aver aiutato i due timidi rampolli reali che, pur se rimasti soli, vuoi per la giovane età, vuoi per l'inesperienza, non riescono a consumare il matrimonio. L'umiliazione è tutta di Luigi, che non perdonerà mai la madre e non si avvicinerà al letto della moglie per i successivi tre anni. Quando si decide a farlo è solo per insistenza del suo primo ministro dell'epoca, il duca di Lugnier, preoccupato per la mancanza di un erede al trono. Se il re avesse continuato a coltivare solo amicizie maschili, che condividevano la passione per la caccia e le sue particolari inclinazioni, come venivano definite all'epoca, non sarebbe mai nato un delfino di Francia. Tuttavia, malgrado un riavvicinamento anche fisico dei due sovrani, testimoniato da ripetuti aborti della regina, il sospirato erede non arriva. Forse le intriganti dame di corte, per ovviare al problema, vogliono spingere Anna tra le braccia di un altro uomo. O forse tutto avviene per caso. Fatto sta che la regina si ritrova in una situazione a dir poco imbarazzante con l'ambasciatore inglese, l'affascinante, duca di Buckingham. E di fascino il duca doveva averne da vendere, visto che intrattiene una duratura relazione amorosa con il sovrano Giacomo I, e nel giro di pochi anni riesce a diventare praticamente l'uomo più potente d'Inghilterra. Ma non solo. Malgrado sia inviso praticamente a tutti per la sua arroganza e per le scarse capacità diplomatico-militari, mantiene il suo ascendente anche quando sale al trono il figlio di Giacomo, Carlo I, che nel 1626 addirittura scioglie il Parlamento pur di non far mettere sotto accusa il suo protetto. Il duca di Buckingham, quando arriva in Francia in missione diplomatica, ha 33 anni ed è, secondo la descrizione di una dama di compagnia della regina, ben fatto, con un bel viso, aveva l'animo grande, era magnifico liberale ed era il favorito di un grande re. Non bisogna stupirsi se con tutte queste belle qualità egli avesse dei pensieri arditi, dei desideri nobili, ma pericolosi. I pensieri arditi sono rivolti alla ventiquattrenne Anna che, con i suoi capelli biondi, gli occhi chiari e l'incarnato di perla, è considerata una vera bellezza. Il duca corteggia la regina fin dal suo arrivo a corte, dove giunge per prelevare e scortare fino in Inghilterra la principessa Enrichetta Maria, sorella di Luigi, destinata a sposare Carlo I. La giovane regina, trascurata dal marito, è lusingata dalle attenzioni di Buckingham, almeno fino a che tutto rimane a livello platonico, ma quando il duca tenta un approccio più diretto non si dimostra affatto contenta. Il fattaccio si compie nella residenza reale di Amiens, dove sosta il corteo reale che accompagna verso la sua nuova vita in Inghilterra la principessa francese. C'è la sovrana e, ovviamente, la sua più fidata dama di compagnia, la duchessa de Chevrose, donna frivola e intrigante, che peraltro detesta ricambiata Luigi XIII. Grazie ai suoi maneggi, il duca di Buckingham riesce a rimanere solo con Anna nel parco della villa, dove pare che abbia tenuto un comportamento inappropriato, anche se non è ben chiaro fino a che punto si sia spinto. Le versioni a questo proposito non sono concordi. Forse il duca ha un approccio verbale un po' troppo ardito, oppure prova ad accarezzare la regina, o addirittura si spinge ben oltre ogni limite, tentando di possederla con la forza. Certamente, però, secondo diverse testimonianze, la regina respinge Buckingham, chiamando aiuto. Tutto ciò, però, non le impedisce di far dono al duca di sei puntali di diamanti, che le erano stati donati proprio da Luigi XIII. Rappresentano un pegno d'amore, come vorrebbero le male lingue, o piuttosto un presente fatto per cortesia diplomatica all'ambasciatore di un paese straniero? Difficile stabilirlo. Ma, comunque sia, quel dono rischia di creare non pochi grattacapi ad Anna. Perché ci si mette di mezzo un ex amante del duca, Lucy Percy, contessa di Carseisel, che, oltre ad essere gelosa della regina francese e decisa a rovinarla, è pure al soldo di Richelieu. Durante un ballo a corte a Londra riesce a sottrarre due dei sei puntali indossati da Buckingham, immaginando siano un dono di Anna, e prontamente li spedisce al cardinale Richelieu, al quale non parvero di avere un'arma da usare contro l'odiata Anna. Quando il duca comprende quanto accaduto, fa immediatamente realizzare una copia dei due puntali rubati e rispedisce indietro i gioielli alla regina, facendole sapere di temere che, se li avesse tenuti lui, ne possa nascere qualche voce che possa pregiudicarla. E infatti l'astruttore Richelieu aveva subito informato Luigi di quel dono compromettente, convincendola a chiedere conto dei puntali alla regina, che riesce invece a mostrarglieli con grande soddisfazione del re. Questa partita la vince dunque Anna, che tuttavia ha vita difficile a corte, in particolare quando Francia e Spagna entrano in guerra nel 1635, e lei viene accusata di passare informazioni segrete al fratello, Filippo IV. Le cose cambiano quando, all'inizio del 1638, viene annunciato che la regina è in attesa di un'erede. Com'è possibile, visto che i due conugi non dormono nello stesso letto ormai da molti anni? Pare che quell'insperata gravidanza sia il frutto di una strana circostanza. Il re avrebbe dovuto pernottare fuori Parigi nella dimora dei principi di Condè, e, come d'uso all'epoca, aveva fatto trasportare il suo letto con relativa biancheria nella casa dei suoi ospiti. Ci si mette però di mezzo un temporale che impedisce a Luigi di raggiungere la sua meta, e lo costringe a dormire a palazzo nel letto della regina, visto che il suo non c'è. Così, grazie a una tempesta e a una strana usanza, viene concepito finalmente il delfino di Francia, che sarà battezzato con il nome di Louis Diodonné, Luigi Dono di Dio, poi conosciuto come Re Sole. La storia racconta che Anna d'Austria e il duca di Buckingham, dopo il burrascoso incontro d'Amián, non si siano mai più rivisti. La regina sopravvive al marito, diventa reggente in nome del figlio Luigi XIV, e si prende come amante incredibilmente uno dei protetti di Richelieu, anche lui ormai deceduto, il cardinale Mazzarino. Va peggio a Buckingham, che finisce ammazzato nel 1628 per mano di un certo John Felton, probabilmente istigato dalla vendicativa Lady Carseisol. A lei si ispira Alexander Dumas per tratteggiare il personaggio della perfida Milady de Winter, che nell'immaginario popolare rappresenta l'esempio perfetto della perversione femminile. Ma a volte, come dimostrano le vicende del duca di Buckingham, di Anna d'Austria e di Lady Carseisol, la realtà supera la fantasia. Se sei arrivato o arrivato alla fine del video e la storia ti è piaciuta, ti ricordo di lasciare un like, di commentare, anche con un suggerimento per il prossimo video, e di cliccare sul tasto Iscriviti se ancora non fai parte dei nostri. In tutti questi modi sosterrai il nostro progetto di divulgazione storica e culturale. Grazie mille e alla prossima!